Ammonta a circa 20 milioni di euro l'indebitamento complessivo per il progetto case da parte del Comune dell'Aquila, tra canoni di locazione e con partecipazione a utenze. 4.350 solleciti di pagamento per le bollette di luce e gas sono partiti dal Comune in questi giorni. Alcune bollette superano 10.000 euro per utenza. Entro il 31 agosto andrebbero pagati. Dopo 4 anni di silenzio l'amministrazione si ricorda delle bollette, denuncia Lelio De Santis, consigliere di cambiare insieme, il quale ha presentato al Consiglio Comunale una mozione per la rateizzazione delle bollette, non discussa nella scorsa seduta per mancanza del numero legale. Non è possibile, nemmeno per famiglie che magari agiate potrebbero permetterci, è un problema di serietà e di rispetto. C'è tanta gente per bene, magari in condizioni disagiate, che vorrebbe pagare, però deve essere messa in condizione di poter pagare. Ecco perché io ho proposto da tempo in Commissione e ieri l'altro, ieri in Consiglio, la possibilità di rateizzare come avviene in tutto il mondo, in tutti i comuni d'Italia. Rateizzare tenendo conto di due elementi chiari. Uno, l'importo delle somme da pagare. Una cosa è dover pagare i 1000 euro, un'altra cosa è dover pagare i 15.000 euro, quindi modulare in relazione a questo importo complesso. Secondo, il reddito ISL. Se uno ha un reddito di 100.000 euro, si può permettere, anzi deve pagare tutto in un'unica soluzione. Ma se nella stragrande maggioranza dei casi è così, le famiglie non possono perché hanno un reddito molto molto basso, noi dobbiamo fare in modo che loro possano pagare, e tanti vogliono pagare perché sono persone oneste per bene, di poter pagare. Il progetto case sta diventando un problema per questa amministrazione, ribadisce il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Francesco De Santis. Il nodo delle bollette è uno dei tanti arrivati al pettine, la soluzione è quella dello smantellamento delle strutture, ribadisce De Santis. È arrivato il momento forse di una riflessione più seria che guardi lontano sul destino del progetto case. La soluzione è quella di innanzitutto censire quelle che sono le piastre che possono una volta per tutte essere abbattute. Dobbiamo cominciare a smantellare queste piastre che hanno modificato non sempre in meglio il tessuto urbano di questa città e che stanno mettendo a serio rischio anche la tenuta del bilancio comunale. Dopodiché è impensabile che tutti questi progetti case e che tutte queste strutture possano rimanere in piedi dopo 10, 15, 20 anni, essendo nate per una situazione emergenziale. Quindi ipotizzare di trasformare questi progetti case in residenze future e quant'altro, secondo me, secondo noi, è una visione sbagliata del problema.